ok lo vediamo sempre sui ditecnici a ripeto però ok facciamo il sito esercizio da no Allora, facciamo? Allora, facciamo prima il divenio. è andato qui questo tipo siamo qui a 4 metri allora diciamo questo qui ragazzi lo sposto poi se vuoi fare i conti non andrei a perdere tempo ho il sistema di figura con il corpo di massa il sistema di figura con il corpo di massa è uguale a 80 kg siamo indecisi se bloccarlo con la forza F1 tangente al piano oppure con la forza F1 orizzontale calcolare il valore delle due forze e quindi non vogliamo tenere ferme con la forza F1 oppure siamo indecisi e però calcoliamo qui ce n'è una alla volta mi auguro perché se non si capisce da tornare l'angolo comprimono l'angolo di via nel mondo di un solentaneo perché? perché un cateto è uguale a l'ipotenusa per il coseno dell'angolo biacente migliorino di 90 kg questo lo dobbiamo A questo lo dobbiamo A questo lo dobbiamo B questo lo dobbiamo C questo lo dobbiamo A allora B è uguale ad A per il coseno di A bene e vi trovate l'angolo alfa un cateto che è uguale a l'ipotenusa per il coseno di l'angolo quindi alfa solo dopo di che attenzione bracciano la forza F1 la quale va sempre scomposta secondo la perfezione quindi per l'equilibrio a scuola ok allora adesso quello che facciamo è osservare questo se ci fosse soltanto la forza F1 la condizione dovrebbe essere F1 vale A F1 F1 va bene quella F1 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 F2 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 F1 F2 F2 F1 F2 F2 Allora, questo vuol dire che F2P deve essere uguale a P dipende, nel secondo caso c'è soltanto F2 e attenzione che la versione vincolare non parla che è uguale a P Allora, se hai una porta la forza F2 la devi sconfondre e la sconfondre secondo la paralela secondo la delfino piccolato di un tirale che è F2 normale che è F2 F2 tangente ok, diciamo l'unica difficoltà naturalmente è giocare gli organi, no? perché come si calca F2 tangente e F2 normali? beh, se questo è alfa allora anche questo è alfa quindi vedi che F2 tangente in questo caso ha il coseno di alfa e F2 normale ha il seno di alfa ci pensate bene il peso è verticale la tangente al sello della forza orizzontale la tangente a F2 ok, quindi nuovamente il valore viene quello che viene però non voglio più andare avanti perché se non abbiamo più spazio per l'energia e il lavoro ma le sue idee di l'interessità sopra che gli dà i risultati cioè il metri di valore che gli dà bene allora adesso diciamo un concetto di lavoro la differenza l'avete fatta di una forza sicuri? sicuri? allora non lo faccio non lo faccio ho un lavoro e l'energia allora va bene allora avete spiegato un spostamento qui atteggiate una forza est costante qui avete l'angolo alza no? lo sapete è che il lavoro con più la forza est per spostare il punto materiale il punto quel percorso lì avete fatto il protoscale la forza scrivelo così F scalare delta R che vuol dire modulo di F modulo delta R del coseno delta R va bene? è una missione delta R delta R è uno spostamento il vettore spostamento cioè il punto materiale si sta muovendo secondo una traiettoria rettilina per semplificare l'integra bene allora dobbiamo fare alcune osservazioni la prima osservazione è questa se il lavoro è positivo la forza si dice forza motrice o lavoro motore eh non lo dico perché magari poi nel testo c'è il termine motore come dice F è detta forza motrice se il lavoro è minore di zero allora F è detta forza resistente esempio canonico di forza resistente è la forza tri ok esempio forza mi scrivo anche l'espressione della forza tri d'attrito in alto meno coefficienti di attrito dinamico per la reazione lingolare normale che questo sarebbe la forza d'attrito siccome la forza d'attrito è sempre tangente al percorso il coseno vale 1 e quindi vi posso mettere l state lunghezza dell'attrito resistente il lavoro è dissipativo quello che volete forza passiva forza dissipativa allora ricordate che quando c'è l'attrito dinamico il lavoro è facile da calcolare basta fare meno coefficienti di dinamico per le azioni vincolari normale per lunghezza della traiettoria quindi se uno avesse un esercizio e questa difficilissimo calcolare il lavoro di una forza qualsiasi ma non della forza d'attrito perché basta saper calcolare la ingesta di questa traiettoria e moltificato in ricordandomi che il lavoro si già la grange allora quindi questo lavoro che si può scrivere anche come del prodotto scalare però diciamo se la forza f alle componenti fx fx il raggio vettore alle componenti delta x delta y però capisci che questo è molto più semplice non sapete che il lavoro è legato all'energia quindi facciamo un ripasso sull'energia allora se noi abbiamo una massa e una velocità di sapete bene che la velocità di cio è stato e poi abbiamo l'energia potenziale della forza perito poi c'è l'energia se avete una molla in equilibrio cioè non compressa e non allunghata possiamo mettere in estremo libero l'origine del sistema di forza e poi prendere come asse x l'asse opposto diciamo allora se noi adesso allunghiamo la molla questo è x l'allunghamento della molla e quando la molla è allunghata adesso deve però l'energia erastica come sapete se dovreste capire che è una nuova è un'energia erastica basta mettere basta prendere una nuova complimera mettergli un guantone diciamo in modo migliore ecco state attenti su delle queste tre energie che si misurano in giallo va bene state attenti che voi sapete che l'energia intende vale una costanza perché perché se lui prende il ferimento del suolo questo l'energia erastica se lo prendo nel pozzo avrò questo pezzo e questo pezzo e lui dice ma allora abbiamo energie diverse sì però sapete che ciò che conta non sono le energie ma le differenze di energia perché perché il lavoro totale il lavoro in tutte le forze che agiscono è uguale alla variazione di energia cinese questo è quello che diciamo il lavoro compiuto dalla forza peso attenzione meno la variazione di energia potenziale cioè soltanto l'energia cinese ha la variazione positiva per il lavoro tutte le altre forze hanno la variazione negativa e poi il lavoro della forza elastica è uguale a meno la variazione di energia elastica e quindi no abbiamo l'ultimissima parte ora si chiama l'energia totale meccanica per esempio l'energia cimentica più l'energia potenziale più l'energia è massima può capitare che non ci sia energia potenziale può capitare che non ci sia energia qual è la difficoltà nel calcolare l'energia totale è la difficoltà deriva dal fatto che quando tu metti una momma in realtà come lo scegli diciamo il riferimento lo scegli il terreno lo scegli il corrispondenza del punto di mitria della molla invece ma l'energia difficoltà che non c'è un problema c'è molla la gravità di schede ma questo è quello di anni questa energia totale metà allora l'assenza di forze dissipative la variazione di energia totale che è uguale cioè energia totale a e l'energia totale invece in presenza di forze dissipative tipicamente in presenza di attrivo eccetera la variazione di energia totale di usare al lavoro delle forze dissipative che risulta essere minore ok quindi diciamo il passo teorico sull'energia è completato bene facciamo qualche esercizio allora quindi avremmo esistito quando avete fatto la dinamica di frutti di forse il primo sei sicuro voi siete sicuri bene 10 secondi ok vediamo prima di vedere il foglio esterno gli studenti mi hanno scritto diciamo delle cose e io poi dirò a loro parliamo di alcuni esercizi sulla sull'energia sul lavoro eccetera scusa c'è è importante che non sia un esercizio complesso che siamo ragazzi andiamo allora allora andiamo a vedere il esercizio 43 a fasima 167 del micro dei sottomaldi è questo è quel luogo un'esercizio 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 stiamo tornando allora un operario trascina sul movimento una cassa inizialmente ferma rimasta a 50 kg con una forza di 130 Nm inclinata di 45 gradi verso l'alto rispetto all'orizzontale quindi c'è una forza così 130 Nm inclinata di 45 gradi rispetto all'orizzontale a un certo istante la cassa raggiunge la velocità di un vento al secondo in un certo istante vuol dire che la velocità in un certo istante di un vado a dire la velocità di un certo il coiffice aguito dinamico tra cassa e pavimento 0 m calcola la distanza percorsa dalla cassa per raggiungere la velocità di un metro al secondo prima facciamo vedere i disegni questa situazione è qui la cassa è stata sulla situazione qui ma grazie a una velocità di un metro come i da sei andiamo a calcolare a distanza ok bene allora diciamo così si può fare in tanti nomi io vi invito a farlo da un punto di vista della dinamica però invece siccome l'ambito dell'energia eccetera da un punto di vista energetico di cosa dobbiamo noi noi abbiamo una situazione iniziale si teniamo a che una situazione finale si teniamo a di va bene allora noi possiamo scrivere che il lavoro totale delle forze è uguale alla variazione di energia cinetica è uguale a ecd meno ecca ripete che l'esercizio si può fare nell'ambito dell'ambito ma lo soltiamo nell'ambito energetico l'energia cinetica in a vale 0 perché ci viene detto che la cassa è inizialmente quindi questo termine va via e quindi qui rimane un mezzo m di al quadrato di adesso tocca al lavoro totale lavoro totale ci sono due forze c'è la forza f e c'è la forza di aprito finanza ok quindi questo lavoro totale è il lavoro della forza s che cos'è e forza contoscare per la forza e per la distanza quindi sarà s per d per il coseno di a dove a questo ok il vettore d se volete è questo quello che avevamo chiamato delta r no il lavoro della forza di aprito dinamico invece non c'è un gioco ok meno c'è un gioco 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 creazione vincolare normale creazione vincolare normale per la distanza ok va bene c'è un problema che la reazione di un gioco normale non è immediata perché noi qui abbiamo la forza peso che naturalmente non conto un po' perché siamo per per abbiamo il contributo della forza perpendicolare e poi abbiamo la reazione vincolare normale quindi attenzione che la reazione vincolare normale è uguale alla forza peso meno che perpendicolare quindi è un esercizio diciamo interessante un pochino più di risultato rispetto a un pochino esercizio che volevo adesso questo possiamo questo già un tipo minimo disegno tanto riesce a ma va bene per completare la forza normale ci sono la forza normale c'è la forza peso però tu adesso stai applicando anche una forza obliqua e qui la devi scompone e la forza obliqua dà una componente perpendicolare che si va ad aggiungere alla forza normale quindi la forza normale più la forza perpendicolare è uguale alla forza peso ok allora cosa vuol dire questo questa persona sta tirando questa cassa secondo me il mondo migliore è il fatto di dare una cassa con una persona è il fatto di dare una cassa perché questo non credo perché quando tu tiri una cassa così bisogna stare un pochino attenti in realtà quando tu tiri una cassa così è ovvio che tu apri una forza verso l'alto quindi stai riducendo diciamo la reazione vincolare normale del pavimento come se io c'è questa fede acqua e adesso faccio così sto facendo un favore un po' lo favore va bene che il pavimento è un'elezione di mangi sopporta a me lo sfondiamo il problema qual è però è vero che tu quando tiri la cassa così stai diciamo alleviando la forza del pavimento ma è anche vero che facendo in questo modo tu diminuisci la reazione vincolare normale e quindi diminuisci anche l'acquisto ok per cui diciamo quello che ho detto non è proprio giusto cioè tirare orizzontalmente una cassa perché sei basso e quindi puoi tirarlo orizzontalmente non è detto che sia conveniente rispetto al tirarlo in obbligo perché tirando in obbligo è vero che tu apri una forza verso l'alto non bisogna perché lo abitare però è anche vero che riduci la forza della tritidina ok fino a stare un pochino attenti perché è il lavoro della forza il risultato del libro viene due metri può dire di continuare spesso lì se non ci sono state per i due canali ok andiamo a fare questo esercizio andiamo a fare esercizio 83 a pagina 171 di questo libro una nuova orizzontale di costante elastica 90 newton al metro è vincolata a un estremo è vincolata ad un estremo e mantenuta compressa di 14 cm sulla superficie di un tavolo liscio l'esercizio è questa che abbiamo la compressione che abbiamo la x quindi x uguale a meno 14 cm per il tempo va bene per il tempo l'esercizio del libro della molla è a contatto con un blocco di massa 100 grammi quindi questa massa dopo che la molla è stata rilasciata il blocco raggiunge una velocità di 3,5 metri al secondo nell'istante in cui la molla recupera la lunghezza al riposo quindi quando si porta la velocità è di 3,5 metri al secondo calcola la variazione di energia totale del sistema tra l'istante in cui il blocco è fermo e l'istante in cui ha raggiunto la velocità di 3,5 metri al secondo diciamo che l'esercizio diciamo un po' buon particolare per questa ragione quando tu mi dici che non c'è accrito a me deve avere il mente di dire che non c'è di situazione di energia in realtà in questo esercizio c'è di situazione di energia e la situazione è proprio la presenza dell'acqua ok facciamo noi abbiamo due punti il punto A e il punto B se si viene chiesta la variazione di energia totale qui dobbiamo fare energia totale B e no energia totale in A tenendo presente però che l'energia totale del nostro sistema è sempre energia cilindica più energia elastica in realtà c'è stato tenendo punto del fatto di questo di questo momento in A voi sapete che l'area è una forma più diversa naturalmente dal contatto ma facciamo il caldo l'energia totale di vedete che non c'è energia elastica perché la molla si porta nella posizione di quindi l'energia totale di altro non è che un mezzo M di quadro B l'energia totale A non c'è energia elastica ma soltanto energia elastica quindi è un mezzo K di santo grado si ok fate il conto e naturalmente dovrebbe venire fuori un valore negativo che se non fa 20 la domanda è calcolare la variazione di energia di tanti aiutato dovrebbe essere come meno 027 joule a 1 1 2 2 2 Sì, tanto al quadrato il segno non conta. Grazie. Ci siamo? Viene? Sì, sì, però lo stai dicendo di più, è meno di solituzione. Allora facciamo adesso un altro esercizio, un esercizio con il pendolo, il pendolo è ancora fatto, no? Tanto non ci servono diciamo le formule di oscillazione, eccetera. Ecco, su questo volevo dire una cosa sul pendolo, sapete che il pendolo è una massa collegata al cito, e attualmente avete fatto gli esercizi sul pendolo. Lasciate a te, ci sono due tipologie di oscillazione. La prima tipologia riguarda le piccole oscillazioni. Quando uno fa esercizi di piccole oscillazioni che vedremo la prossima settimana, vuol dire che il tetra di T, l'angolo, è del tipo A, coseno e D. Cioè l'avete fatto a seno di omega di T, insomma. Però quando il pendolo viene rilasciato, per esempio, da una posizione orizzontale, uno si guarda tutta la sua oscillazione, quelle formule non servono a misca. E allora bisogna utilizzare la conservazione dell'energia. Quindi ricordatevelo bene, che dovrebbe capitare negli esercizi, un conto è un pendolo con le piccole oscillazioni, e allora lì c'è la formula del periodo, dell'oscillazione, delle cose. Un conto è invece un pendolo che viene fatto oscillare a grandi angoli. A grandi angoli la protezione matematica è complicata, e allora non possiamo fare altro che utilizzare la conservazione del pianeta. E' chiaro, quindi attenzione, ha le due tipologie. Oscillazione, piccole oscillazioni, e grandi oscillazioni. Per le grandi oscillazioni sono le oscillazioni energetiche. Quindi, io prendo un montaggio, ma non serve perché tanto non si stiamo in canino con un altro. Allora, vediamo l'esercizio. L'esercizio è risolto in questo libro, però mi importa. Un pendolo è formato da un filo di massa fratturabile, va bene, lungo 60 centimetri, fissato all'estremità, ok, perché quello non ho capito, spogliamo di una nuova, questa estremità. All'altra estremità è attaccato un pesetto di ferro di massa 890 grammi. Inizialmente il pesetto è tenuto in modo che il filo sia oricontale, quindi Poi viene rilasciato, va bene, trascura in forma di attrito, mentre nell'esercizio di prima c'era l'attrito dell'aria, calcola la velocità del pesetto e la tensione del filo quando il filo è verticale. Quindi bisogna calcolare la velocità e la tensione del filo. Allora, naturalmente abbiamo capito che quando facciamo esercizi di conservazione dell'energia dobbiamo vedere uno stato A e uno stato B. Quindi stato A è inizio e lo stato B è la fine Quindi prima risolviamo la questione della velocità e poi la questione della velocità. Allora, naturalmente vale la legge di conservazione dell'energia meccanica, quindi energia totale e acqua, e adesso è uguale a energia totale. Sì, 102. Allora, sono astenti perché dobbiamo prendere adesso, noi mi ricordiamo che l'energia sono l'energia potenziale del forza aperto e l'energia cinetica. Dobbiamo prendere l'intervento per l'energia potenziale del forza aperto. Dove lo prendiamo nel forza aperto? Dove lo prendiamo nel forza aperto? E dovete... Allora, il vostro compagno ha detto lo prendiamo in B. Va bene? Potrei prendere l'antino. Ok, lo prendiamo in B perché se noi prendiamo qui il riferimento nel punto più basso, allora vuol dire che gli oggetti che stanno sopra hanno un'energia potenziale positiva. E' un'energia indicatore. Se volete, ragazzi, lo prendo in O verso l'alto. Prendiamo nel modo, diciamo... Quindi vuol dire che in questo palazzo l'energia cinetica di riferimento sarebbe bene prenderlo nella recensione. In modo che non lo vediamo, ciascuno di noi ha un'energia potenziale positiva. Se lo prendessimo al terzo piano noi avremmo energia potenziale in B. Niente di male, però. Quindi il riferimento è così. Questo primo lo usiamo in termine di oro che abbiamo presa. Lo prendiamo qua. Questo è così. Ok, quindi energia totale è A. Energia potenziale è Mg. Mg. Quanto vale A? La lunghezza del filo. Quindi Mg è l'idea. Non c'è energia cinetica, invece il filo è abbonato. Attenzione, se dicesse che al filo è stato dato un impulso, è una certa velocità iniziale, basta mettere qui un mezzo Mg al quadrato A. Ok? Alla fine, l'energia potenziale è nulla, perché siamo nel riferimento, l'energia cinetica. L'energia cinetica. dovrebbero calcolare un attimo la tensione. Allora, i tempi di Galileo, prima di Galileo, cosa si diceva? Si diceva che la tensione è tipica, la cosa è uguale alla forza presa. Va bene? Perché è così? Invece non lo diciamo, che c'è la forza centripeta che ci dice che è uguale alla forza centripeta più Tb, più Tb, ho chiuscito, abbiamo dato un mancamento perché la meccanica arritica nel presente è finita con T, ho visto gli Utb, mi sono spaventato, invece l'energia cinetica abbiamo chiamato l'energia Tb, Mg. Questo è, come il vostro compagno, M di quadro B, diviso la lunghezza del raggio, e allora invece la togliamo a un'altra parte. Ok? Se qualcuno dell'altra classe deve fare una foto per vedere quello di gruppo fino all'interno, eccetera. Allora ragazzi, mi dispiace, ma di questo...